Ma guarda, Bologna è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa fase iniziale della stagione. Questa è un'opinione personale, però poi ci sono numeri. Bologna è una delle squadre che recupera più palloni, Bologna è una delle squadre che tira più in porta, è una delle squadre che subisce meno tiri in porta. Quindi è una squadra in questo momento di numeri di altissimo livello e una squadra periodosissima da affrontare. e spero che Sinisa sia in panchina domani perché lo rivedo veramente molto molto volentieri. Dopo la vittoria di San Siro sia stato un punto di svolta anche per lei oltre che per la squadra? Ma io questo sinceramente non lo so. Intanto, come ti ho sempre detto, l'aspetto scetticismo nei miei confronti è un qualcosa con cui convivo da tantissimi anni. Quindi non è che mi influenza neanche più di tanto. La classifica in questo momento non ci interessa. Dobbiamo essere concentrati su dare continuità a prestazioni di buon livello perché poi il risultato deve arrivare a una logia conseguenza. Spero che sia stata una partita importante ma sono tre punti che abbiamo già preso la partita passata e quindi penso anche che ci dobbiamo concentrare su una partita difficile materialmente per i motivi che ho detto prima e difficile mentalmente perché il rientro da una sosta è sempre difficile perché sembra banale ma togliere un giocatore da un contesto, da un modo di giocare, da certi obiettivi metterlo in un altro contesto, in un altro modo di giocare, in un altro obiettivo e poi tornare in due giorni, spesso in un giorno all'origine non è automatico e quindi può creare delle grandi difficoltà. L'imminente rientro in disponibilità o in campo di Douglas Costa non va un po' a farle sacrificare un modulo che sta funzionando molto bene in questo periodo oppure un allenatore lo vede come un arricchimento dal punto di vista tattico? Ma io non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché in effetti Douglas Costa si sta allenando sempre a parte quindi non c'è stato al momento il rientro di Douglas e quindi è una domanda da prendere in considerazione per il futuro. Durante la settimana abbiamo avuto il rientro mercoledì in gruppo di Danilo e ieri di Ramsey per quanto riguarda Douglas e per quanto riguarda Desciglio dal nostro settore medico mi stanno arrivando notizie confortanti ma ancora non c'è stato nessun rientro in gruppo. Io penso che questa squadra deve essere pronta a tutte e due queste soluzioni. in questo momento stiamo facendo un modulo neanche semplice sotto certi punti di vista soprattutto per la fase difensiva e lo stiamo facendo in maniera non perfetta chiaramente ma lo stiamo facendo abbastanza bene quindi in merito dei ragazzi in poco tempo hanno saputo andare a una buona interpretazione di questo modulo però in base a giocatore a disposizione vediamo poi di partita in partita quale sarà meglio scegliere ma penso che dobbiamo essere pronti a utilizzarli tutte e due.